e si ciao 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 ahahah Daniel va a carico papà ma stai andando vai via Daniel vai via ahahah finito io sono uscito a buttarle tutte dai buttarle tutte adesso adesso è rimasto poco eh ma vai Edi non c'è più finita la corda adesso come il bello eh visto ti sei divertito Aaron? si la prossima volta prendiamo il palloncino